Gentile, amatissimo pubblico, stiamo vivendo veramente questo 2020 che è un anno assai particolare che ci impone molta pacienza e temo che dovremmo averne fino alla fine dell'anno. Come sapete il distanziamento ci impone di escludere dei posti nella sala e per questo non possiamo accontentarvi nel darvi il vostro posto abituale. Perciò vi chiedo un po' di pazienza, stiamo cercando di accontentare tutti. Poi fino adesso pensavamo di avere solo 200 posti a disposizione. È probabile che la regione vada in deroga e che questi posti possano essere aumentati ovviamente tenendo le distanze di sicurezza. Questo vuol dire che dobbiamo rimodificare le piante molto spesso. Ci vuole ancora un po' di pazienza. Il nostro personale è uberato dal lavoro perché è veramente un lavoro straordinario. Abbiamo aumentato di tre unità l'organico degli uffici, della biglietteria, della promozione e comunicazione. Ciò nonostante, faticano a stare al passo di questa straordinaria mole di lavoro. Perciò vi chiediamo veramente ancora un pochino di pazienza. Ciò nonostante, la stagione è veramente molto bella. Grazie della vostra solidarietà, della vostra vicinanza, non solo per i 3.700 abbonati che hanno rinunciato al rimborso ma anche a tutti gli altri che ci sono stati vicini. Ai 1.000 abbonati stamattina abbiamo raggiunto, abbiamo fatto una foto insieme e naturalmente vi aspettiamo, vi aspettiamo qui a teatro nella bella sala rossa del nostro Teatro Biondo. Grazie.